Salve Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Fanny Gameric, siamo tornati su Fuckry Primal E a che ci siamo ragazzi? Io andrei a reclutare anche Urki il Pensatore Prima di iniziare qualche missione Abbiamo le missioni di Jaima, missioni di Vuoga, l'Artevice E ci sono queste missioni anche attive che ci dobbiamo andare Però ragazzi, io andrei subito a reclutare Urki il Pensatore Esplora la caverna remota Sì dai, partiamo al razzo Continuate sempre a lasciare mi piace Beh ragazzi, andiamo subito da Urki il Pensatore Stando attenti a questi pericoli Perché qua c'è pure un insediamento C'è un rinoceronte, ci sono i mammut Quindi direi che siamo in difficoltà qui Perché neanche il leone forse può fare molto Andiamo Simba Cerino Ceronte Attenzione Ah è il mio leone questo Morto Ma questo è domabile se non sbaglio Vabbè però ora no Andiamo a fare la missione Comunque il leone Mi marchia anche i nemici Questa cosa è utilissima Comunque quelli sono tipo avamposti ragazzi E io Mi sa Che non li farò Attenzione Attenzione Questa è un giaguaro Morto Vedete che vista aveva questo Ancora ce n'è C'è un giaguaro Ragazzi io Provo a domare il giaguaro Anche se poi mi prenderò il leone sicuro Vai Ecco Adesso abbiamo Il giaguaro Vediamo un po' Che carino Non so se è una femmina ragazzi Perché altrimenti potrei chiamarla Già Quello di Madagascar Ragazzi Bellissimo Anche è bello il giaguaro Però voglio vedere Chi è più forte Il giaguaro O il leone No Ovviamente il leone Sì Però il giaguaro è più furtivo E più veloce Attacca le vittime ignare Senza allertare I nemici Nelle vicinanze Ah E questa è una cosa buona Ragazzi ci manca una belva E possiamo sbloccare L'abilità Di domare La tigra Dei denti lunghi E l'orso bruno Cioè domare un orso bruno Come sarà bellissimo Avere un orso accanto Ma anche la tigra Dei denti lunghi Dico Cioè Comunque abbiamo un punto di abilità E facciamo Questo Le sacche di risorse Possono essere viste Con la vista del cacciatore Vabbè Vediamo com'è già Potrei chiamarla Giacomina Giacomina Comunque già mi manca il leone Vabbè Adesso ci teniamo Giacomina Poi ci prendiamo Di nuovo Simba Anche Se ripeto Lupo Alberto Non l'ho mai dimenticato E' pieno di jaguari qui Ah posso potenziare Al massimo la clava Si E' diventata fortissima Non so se è più forte Questa o questa ora Mi sa che qui ragazzi Dobbiamo andare col rampino Aspetta però Ecco Ah c'è qui Il nostro jaguaro Andiamo Da questo pensatore Urchi come si chiama Ma da dove si ci va Quello leone E' un leone Che sta succedendo qui Perché prende tutto a fuoco Ma che è successo Ci sono quelli che si scannano C'è un serpente Ma Non muore Oh Non serve a niente Non ci devono vedere Stiamo facendo il leone Ti sei perché è il colore del mio leone Siamo arrivati Campo Avenger Maita Vediamo un po' questo Urchi Il pensatore Vola come un uccello Aiuta Urchi A imparare a volare Ma in che senso Che vuol dire Ma che fa? Hondo Hondo Tu sei La dunce Questa è lander Il pensatore Questa è lander Il pensatore Questa è lander Questa è lander Questa è lander La dunce Pote Ho Ho Vеты Ho Vesi Grazie... Grazie... Archie... 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 孟... Archie... Chi vi ricorda ragazzi? Chi vi ricorda questo tipo? Urk Fa Cry 3, Fa Cry 4 Un suo antenato, ha pure la fascia in testa, cioè è lui Me l'immaginavo in qualche modo Che Urki Mi lasciava pensare Urk Caccia e scuoi animali per Urki Uccello delle nevi, tartaruga Ah perché la tartaruga si può prendere pure Corvo e alzannatore Dai, che palle L'ho acceso, l'ho acceso Mi ha fatto scappare l'uccello L'ho acceso per il fuoco Poi è il tapiro Ma non dobbiamo prendere il tapiro Vabbè Bell'animale L'uccello, l'uccello Vediamo cos'è Grande Piume di colpo Perfetto Che è Lo fai scappare Giusto Sì Perfetto I giaguali non ci attaccano più Ma perché ci sono sempre questi Sì Abbiamo il pesce Azzannatore Perfetto Ma mi serve Tartaruga E l'uccello delle nevi Levati Giaguaro Cioè come la trovo Ah ecco la tartaruga Com'è Ma la possiamo anche catturare Prendi l'uccello di tartaruga Adesso l'uccello delle nevi Pensavo che non si potesse uccidere La tartaruga Dove lo prende l'uccello delle nevi? Vediamo un po' Dove lo posso prendere? Forse è quello? Ecco lì c'è un uccello Che cazzo? Allontanalo Allontanalo Allontanato il nostro giaguaro No 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 È volato Cazzo Forse è quello Ma forse è colpo Si Mi sa che questo è pure un colpo Allontanalo Allontanalo Bravo Tieni Spettacolo Perché si trova Sto scello delle nevi Sto scello delle nevi Non è qui Non è qui ragazzi Non è qui No sono morto Spero che gli animali Me li ha mantenuti Quelli che ho preso No no Non me li ha mantenuti Faffanculo Ho trotto le palle Oh sì Si è buggato Con il giaguaro Aspetta ragazzi Mi è venuta un'idea Mi è venuta un'idea Vediamo dov'è sto uccello Di merda Sono quelli Mi sa Sono quelli Sì 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 li ho trovati Li ho trovati Finalmente Eccoli 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 Finalmente Fiume di uccello Delle nevi Perfetto Che è sta roba qui Uccello Ma che ci sono Li prendo Magari ci serviranno In futuro Che ne so Se si trovano solo qui Perfetto Adesso possiamo andare Da Urki Perché si trova lì sopra? Il giaguaro è rimasto Buggato lì Vabbè Fanculo Te ne deve Li fattare Tutta la freccia Mi sono finita Ho tirato l'esca Volevo mandargli Il Il leopardo Il giaguaro Invece ho sbagliato Tasto Giacomina Vieni qua Giacomina Vieni qua Giacomina Fatti dare una carezza Giacomina Una carezza Voglio darti Andiamo Giacomina Giacomo Pai Giacomina Giacomo 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 Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no! Va bene. Vai a vedere il salto di Urqui. Ah! Lo devo andare a vedere! Vabbè! Oh ma dai, salta Ma, è morto No, spero Ma, è morto Si è buttato nella paia, forse è sopravvissuto Si ragazzi Tipo come Assassin's Creed Che si è buttato nella paia Oh Andiamo, andiamo Vieni qui Dai, la stai inseguendo Si Siamo riusciti a scappare Tieni Però il leone voleva più carne ragazzi In questo caso Cioè In questo caso il giaguaro Cioè vuole meno carne Quindi in questo caso è una cosa positiva Rispetto al leone Però il leone È un po' più forte Il giaguaro è più veloce Ma il leone è un po' più forte Allora, urchi e pensatore Si trovano in questo villaggio ora No Non proprio Vabbè, comunque è sopravvissuto Perché lo sentivo nella paia Probabile che spunterà di nuovo Andiamo al villaggio Ah, c'è ancora la missione Ma Poco fa Non c'era Ma scusa Boh Ma lui non va al nostro villaggio Eh, li ha fatti scappare tutti Il giaguaro I lupi Attenzione Ah no, questi sono nostri Vabbè Andiamoci di nuovo Con il rampino Andiamo Andiamo E scusa Abbiamo fatto questa missione Però Non è andato al nostro villaggio Probabile che dopo questa missione ci va Aiuta urchi a proteggersi dagli udam Forte come una roccia Guardate, c'è uno morto lì Non ci sono Guardate, c'è uno morto lì Guardate, guardate Oh, che lo sentono Longta 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 Eh Uh Maga scusa Oh Oh Boy Oh Burkuala Urchi Sahuatai Oh Ti c'è versus Il nostro corso gratuito è un po' di più. uuuu tec in campo il silo trovo le pietre speciali per urchi ok è stata una tartaruga c'è un leone però ragazzi io mi prendo di nuovo Simba no mi ho tirato una pietra scusami ho sbagliato ho sbagliato tasto allora ragazzi io lo sostituisco con Simba perché è più resistente il leone cioè ragazzi guardate ma Giacomina la possiamo sempre chiamare che ci marche nemici è anche importante Giacomina però voglio tenermi Simba per adesso Simba vieni allora dobbiamo andare lì sotto a prendere queste pietre trova le pietre speciali per urchi può darsi questa? no non è questa mi sa che dobbiamo uscire da loro rimarchiamo tutti vediamo quanto ce n'è vabbè dai vabbè dai ah questo è quello che dà l'allarme l'ho uscito per prima si ah 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 tolè a api APERA! Aspetta… per l'aiuto… Oh Cura Eh sono forti ragazzi Li ho sottovalutati Li ho sottovalutati Non c'è solo Oh 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 Tieni Lancio questa Dai Dai di nuovo Vabbè No ci vuole la carne Non muore È morto È morto Ma non c'è né carne Vabbè la posso rianimare La posso rianimare Eccola Ma scappa Allora non lo uccido più Fa un cuolo Devo trovare le pietre Questi sono appresi Che è successo qui? Perché prende tutto a fuoco Non è questa la pietra Ecco C'è un coccodrillo C'è un coccodrillo Lì Perfetto Porta le pietre da Urki Non ti faccio niente Non ti preoccupare Ma Quello ha acceso a uno Comunque ci serve della carne Qua ho trovato un po' di carne Andiamo da Urki Come sto uscendo dalla zona Vuol dire Come ci devo salire Da qui Ti conviene cercare un po' di carne Non te ne posso dare Simba Se no poi mi manca a me Comunque il leone Vuole più carne rispetto al lupo e al jaguaro Vai Siamo arrivati Vi fare con queste pietre Colpisce con una lancia E torace di Urki E torace di Urki Non è morto, ragazzi. Non è morto. Che cazzo? Ah, una scimmia. Andiamo, ragazzi. Allora vi faccio vedere che appena vado al villaggio, spunta di nuovo la missione di Urki. Perché non è morto. Intanto possiamo creare... la trappola. Ok. Invece abilità? Fabbrica due frecce, invece di una, dalla ruota delle armi. Il corso di risorse non cambia. Bene. Ragazzi vi faccio vedere, ora vado al villaggio e spunta la missione di Urki. No. Non è apparsa. Molto strano. Vabbè, ma apparirà. Che non è morto. Cioè, urlava. Si sentiva. Vabbè. Se non compare più, vuol dire che è morto. Nel prossimo video, ragazzi, andiamo a fare una missione di vocalo artefice o... una mossa di Jaima, la cacciatrice. Oppure facciamo queste di Saira e di Karosh. Vedremo, ragazzi. Continuiamo nel prossimo video. Un saluto a tutti. Saira e di Saira e di Saira e di Saira.